Buongiorno dal Tg della mobilità. Le notizie sul trasporto pubblico in apertura di questa edizione. Oggi e domani ancora due giorni di limitazione a Valle Giulia per i tram della linea 19 che lasciano così spazio ai lavori di potatura su viale delle milizie. Da Valle Giulia gli utenti della linea proseguono sino a piazza Risorgimento a bordo delle navette bus. Modifiche anche per sei linee bus ordinarie l'elenco in dettaglio sul sito romamobilita.it. E in tema di tram servizio di nuovo regolare per la linea 5 che questa mattina insieme con la 19 era rimasta rallentata per un guasto tecnico a via Del Pino. Le altre notizie, manifestazioni in città e ripercussioni sul traffico questa mattina sitina via Molise, possibili disagi tra via Bissolati, via di San Basilio, via Veneto e piazza Barberini. Nel pomeriggio, sempre in centro, siti in su via dei fori imperiali tra Largo Corrado Ricci e via di San Pietro in carcere saranno possibili deviazioni per i bus. Per il momento è tutto e il Tg della mobilità alle 12 torna con una nuova edizione.